Siamo qui con Annalisa Vandelli, fotoreporter al Festival Francescano 2019. Ha parlato poco fa di dialogo a partire dal silenzio, che è un concetto molto interessante. Sì, io credo che sia importante non metterci prima degli altri. Credo che il nostro tempo ce lo richieda, cioè di fare quell'operazione che Simone Weil chiamava farsi vaso vuoto, che non vuol dire essere privi di contenuto. Al contrario, vuol dire essere talmente pieni di contenuto da poter accogliere molto di più. E questo come si traduce nelle tue immagini, nel tuo lavoro? Eh, bella domanda. Nelle mie immagini e nel mio lavoro si traduce attraverso la relazione. Voglio dire che senza silenzio e senza relazione non ci può essere una buona fotografia. La fotografia nasce da un silenzio interiore e da un dialogo con una persona di cui si dovrà avere molto rispetto, perché si dona. E quindi in questo lavoro di traduzione tra continenti, e a volte mi viene da dire tempo, il silenzio cova una buona immagine o una buona parola. sempre nell'idea che Platone considerava le parole farmaci. E il farmaco è qualcosa che ha in sé sia il veleno, sia la cura. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.